Sì, ho scelto ora, faccio i conti d'Irland. Ecco a vedere chi ci fate. Ho finito il modo di fare. Restorlo. E poi continuo a 11. fase. a l'agieria a la a al le Andiamo a Torniamo a Moen, ma non è facile. Sì, per arrivare a lui abbiamo bisogno di un po' e l'unico po' che abbiamo trovato fuori da l'afran. Se vuoi parlare con Moen, devi farlo di tornare. Tu pensi che puoi fare? Sì, sì. Great, c'è solo un villaggio in la Crocodile Valley che ha accesso a l'arrivo. Quindi, la mia guess è che è l'arrivo a l'arrivo. Non credo che potrebbe ridere il po' di. Sì, vieni. Sperare una attenza di unrando di fare il nostro progettive. I l'amico stigli, ecco si puoi, ecco. Se devo litermi il giorno, ovviamente ho potuto il cuore. L'abbiamo qualcosa di l'amico, ma c'è di la uscire? Ma ho scopo di un'anni sullimenti. ...ma che c'è il 73%... ...ma che tu... ...moven kunyhója vanno... ...ma non c'è... ...ma non c'è... ...varrò non c'è vele... ...de... ...legalább... ...kivilagino... ...murja... ...da takoухá... ...ol himetto... ...也 Martha... ...maar vai! Desmandati i ti jagdas offeraude! Ho giustato. no un ballo o invece ma la la non è Azt mondi, che c'è un nuovo un cuore, questo non è possibile. ... ... ... esciò che è un' è stato il nostro quindi ancora 2 giorni ciò che quindi il 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 è sicuramente... ...hegyes. ... 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 e la un esterno è un 661 ma anche il 651 è un il laisseretto e sono qui anche perchele con gli ultimi il secondo me è un banalto una stessa perchebra quindi un pollo scendere ma l'ahora è What do we have here? What do we have here? Sì! F**k you Pianto. Tovall. Headshot! Chi è ancora? S' merro? Sì! che cosa c'è la scuola sveglia come back who are they? it's headshot mother fucker hai un batto qui c'è che hai dietro tu? oh 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 è il banno il herald il viz non è lì e poi la carta è il rap non c'è l'abbè Let's take a look Let's take a look I'm going to take a look Let's take a look Oltre! Oltre! Megvagy! Ezeket összövelekért! Örnek! Jó, akkor itt már is több dolgom, de... Főjebb még van. Úgyhogy az út fel kell vennem az irány. Össze! Össze! Csak. Főzzük a Grazie. Hányanók. Az úton kéne legyen tél valahol, amit keresük. Talán itt. No, non, 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 non. Itt van, megtaláltam. Akkor a helyadakkal már nem is kell foglalkozni. Ha már csak az ID kártyákat kellem megszerzni, mikor blueprintéket is, akkor már úgy megvan. Jó, erre van incis, szükség. Jó, erre van incis, szükség, 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 szükség. 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 Oh, che c'è l'edito a l'hettere? Non è l'edito a l'hettere. Non è l'edito a l'hettere? Sì, vai giùlo. Sì, vai giùlo. e che i miei indietro e non e allora si 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 Would you be willing to find us some food? Money we have, food we don't. Right now I know cash ain't worth nothing. This craziness can't last forever. Gather us some food and we will pay you good. Our money does us no good if we are dead, huh? Will you venture out there? Will you find us some food? Absolutely. Then we have a deal. Food for money. Please, brothers, hurry. Good job. Hopefully they die quickly. A couple days ago a large passenger plane crashed into the jungle. We could hear the pilot yelling for help over the radio right before it went down. Who knows if anyone survived. Even if everyone crashed, there's probably some valuable equipment out there. Navigational devices, communications equipment. Did you help him find a crash site? Good boy, Angel. I'm sure it's worth the effort to find it. You, outsiders. My bride was taken by raiders from an enemy tribe, the Huli. It is a great dishonor and I need to reclaim what was stolen from me. But I am no warrior. If you agree to bring me back my bride, I will give you my father's machete. Before I disheartened. Before I disheartened. You will agree to help me. Definitely. Beh, questo non è molto facile. I saw him shuffling around with those other bloody geeks. You up for getting that key? Is it to the pub? Brilliant. You might want to look behind the warehouse. That's where I saw him last. But be careful right? He's a big boy and he ain't bloody alone. oh my god i was beginning to lose hope i'm just so grateful to see you i'm a producer for international geographic we were shooting a documentary when we were overrun by those i don't even know what they are i'm the only one who got away the rest were just oh jesus christ somebody needs to go back for the camera people need to see what's happening here can you help me i'm in excellent thank you i promise to mention you the story now you're welcome to use my car i banged up a bit getting away but it should get you to where you need to go what are you still doing here you need to get that camera i'll be fine here i need to get to that village go 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 Sì, non lo so. Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.